Arasulev ASMR Salve e benvenuto o benvenuta su Arasulev ASMR In questo video l'unico mio scopo sarà quello di rilassarti e farti addormentare, anzi rilassiamoci insieme. Non so come sia stata la tua giornata oppure magari mi stai guardando di mattina. Ma se sei qui significa che hai bisogno di prendere del tempo per te per staccare dai problemi alle preoccupazioni. E forse ti sembrerà strano ma registrare questo video serve anche a me. Perché anch'io in questo momento mi sto prendendo del tempo per non pensare a ciò che mi preoccupa, a ciò che mi crea ansia, stress. Ma in questo momento sto solo pensando a respirare, a rilassarmi insieme a te e a produrre dei suoni delicati che servono a farti addormentare. Se ancora non lo hai già fatto mettiti comodo o comode. Straiati se puoi farlo oppure semplicemente mettiti in poltrona. preferibilmente abbassa un po' le luci. e fai qualche respiro profondo insieme a me. E fai qualche respiro profondo insieme a me. Spira dal naso, gonfia la pancia ed espira dal naso o dalla bocca. Non ecco. Non ecco. Spira monetmente mi ridò. Spira. 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 Immagina che ogni respiro che fai si ha aria pura che entra nel tuo corpo. Quest'aria pura perpade tutto il tuo corpo e lo purifica da tutto lo stress, tutte le preoccupazioni. Con l'aria che esce se ne va tutto lo stress. Immagina che quest'aria entri dalle tue narici, pervada la tua testa, scelta giù per il collo, pervada le braccia, il tronco, le gambe. Prende tutto lo sporco, tutte le tossine, prende tutte le preoccupazioni e poi se le porta via con la tua ispirazione. Prende tutto il tuo corpo. Prende tutto il tuo corpo. Rilassati. Rilassati completamente e respira profondamente. Rilassati. 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 prendiamo tutto quello che ti fa star male facciamo un bel fiocco e lo diamo all'universo che lo trasformi in energia facciamo un bel fiocco e lo diamo all'universo che lo trasforma in energia facciamo un bel fiocco e lo diamo all'universo che lo trasforma in energia spero che tu ti stia rilassando, io si rilassiamoci insieme, prendiamoci questo momento di calma, di tranquillità in cui possiamo rigenerare la nostra energia purtroppo troppo spesso ci dimentichiamo di respirare il respiro è vita e noi invece spesso siamo talmente presi dai nostri problemi che viviamo in apnea, ci scordiamo proprio di mettere aria nuova per purificare quello che abbiamo dentro rilassati 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 prendi sonno tormentati lasciati andare rilassati 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 rilassati, dormi dormi sono sicura che ti sei già rilassato, forse stai già dormendo spero che questi suoni che sto facendo, questi dog clicking, abbinati a questi hand movements siano per te molto 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 rilassati questi sono degli hand movement, questo è un camera touching, camera touching, camera touching sono tutte coccoline per dormire coccoline 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 per dormire, per dormire, per dormire come un bambino, come una bambina se c'è ancora qualche brutto pensiero lo prendiamo facciamo un bel fiocco e lo diamo all'universo che lo trasformi in energia facciamo un bel fiocco e lo diamo all'universo che lo trasformi in energia con questi respiri se ne va tutta la preoccupazione tutta l'ansia facciamo una bella pulizia di tutte le cose che ti fanno stare male tutto 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 se ne va rimane solo la tua essenza, la tua parte che sta bene la tua parte che vuole vivere in modo gioioso e le preoccupazioni via, via all'universo che le trasforma adesso continuerò a fare dei movimenti delle mani molto molto lenti che serviranno solo a rilassarti delle carezze, delle coccoline, delle coccoline dolci dolci per dormire dormi, 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 rilassati tu pensa solo a rilassarti a rilassarti buonanotte ci vediamo in un altro video su arasule a s m r a rasule a s m r a rilassarti a rilassarti a rilassarti a rilassarti